Sono Paolo Avanzi e sono il gestore di questo spazio, spazio Intelvi 11. Si chiama così perché è collo capo di Zasco, che è all'inizio della valle Intelvi. È ricavato all'interno di un vecchio monastero del Settecento. Si trova nel borgo di Murodico, che ha 800 metri da Ergenio sul lago di Como, in una zona compresa essenzialmente fra Cernobbio e Menaggio. In questo spazio io organizzo periodicamente delle mostre che alternano maestri consolidati storici con giovani emergenti e contemporanei. Tra un'ora si interviene per messaggi questa mostra collettiva Maestri Italiani, che comprende maestri storici del II Vecento, ma anche artisti contemporanei consolidati. Abbiamo tra gli storici Tono Zancanaro, Remo Squidantini, Franco Rognoni, abbiamo Giova Francesco Gonzaga, Concetto Pozzati. Abbiamo anche dei contemporanei sicuramente validi come Renato Chiesa e come Gabriele Poli. Il prossimo anno, nel 2017, contiamo di alternare, come fatto in passato, storici e contemporanei, però dando più spazio a giovani e contemporanei validi. Ci pare che questo mix tra storici e contemporanei sia utile anche per stimolare l'attenzione e per dare così un mix che sia valido e accattivante per il pubblico. Quindi siamo fiduciosi che il prossimo anno ci sarà un programma all'altezza dei precedenti che abbiamo gestito in maniera sicuramente oculata e spero anche valida. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.